Salve a tutti senza luce e benvenuti in un nuovo video qui su Top Games. Io sono Samuel ed oggi voglio parlarvi di uno scudo che dovete assolutamente avere. Lo so, ultimamente questo devi assolutamente avere sta diventando un must del canale, però sono dei video che vedo che vi stanno piacendo, vi stanno intrippando e chiacchieriamo un sacco dei loro effetti, delle loro cose. E mi sta piacendo quello che sta succedendo. Quindi anche oggi si troviamo in una rubrica di questo tipo. Prima di andare a parlare dello scudo in questione, voglio ritagliarmi il solito momento di tempo per ringraziare tutti quegli utenti che hanno deciso di supportare il canale sfruttando gli abbonamenti di super grazia. Siete tantissimi e ci state aiutando a migliorare il canale, quindi signori, un grazie sentito di cuore. Già che ci siamo, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like ed un commento qui sotto ed attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri nuovi video. E se avete anche voi il piacere di supportare il canale, qui sotto in descrizione trovate tutti gli incutili come gli abbonamenti di super grazia ed anche il nostro canale Gameplay, nel quale troverete un sacco di titoli interessantissimi giocati dai primi 30 minuti a titoli completi. Fateci un salto. Stiamo per parlare di uno scudo davvero particolare al quale è legata una storia, tra l'altro, davvero davvero drammatica, non propriamente legata allo scudo, ma all'essere che gli dà la forma, da cui trà ispirazione. Stiamo per parlare dello scudo medusa. Questo scudo è una testa di una medusa spiritica. Solitamente fluttua a mezz'aria sui suoli consacrati dell'interregno e può essere impugnata come scudo senza necessità di apportare delle modifiche. Questa testa trasparente è molto leggera, ma la sua carne è tenera e non offre alcuna protezione contro gli attacchi perforanti. Ebbene sì, stiamo parlando dello scudo più leggero di tutto Elden Ring tra gli scudi pesanti, ma oltretutto non ha dei requisiti ufologici per poter essere impugnato, parliamo di Forza 20 e Destrezza 14, Scala su Forza, ma quello che mi ha colpito e quello che penso sia utile di questo scudo e per questo secondo me è un must have, è il fatto che la sua cenere di guerra è furia contagiosa. Provoca l'Ira della Medusa e lascia che scorra nelle tue membra, incrementa la potenza d'attacco per un periodo. Adesso parliamo un attimo di una cosa. Ci sono un sacco di giocatori che effettivamente prima di entrare in un'arena vanno a buffarsi con tutto quello che possono. C'è chi usa l'elmo dei funghi e si avvelena per avere un buffo ai danni, c'è chi usa voto auro fiamma ad una mila forza, c'è chi ha mille altri metodi per potenziarsi prima di un'arena, c'è il trucchetto di Shabriri per facilitarsi la vita. Questo scudo è un ulteriore power up ai danni, quindi devo dire la verità, anche se non protegge davvero tantissimo, caricarsi qualcosa con 8 di peso non è così poi devastante per avere un bonus all'attacco, soprattutto prima di una boss fight. E questo è quello che mi ha attirato di questo scudo. Ovviamente, probabilmente lo starete vedendo da ora, per ottenere questo scudo bisogna arricarsi in un posto fisso. Ci troviamo a Liurnia, io sono partito da una grazia in mezzo al laghetto, a sinistra di Liurnia, non mi ricordo il nome della grazia ma la vedrete a schermo, e da lì sono andato avanti fino ad arrivare al punto in cui otterremo questo scudo. Attorno a lui fluttueranno delle meduse arrabbiate con il mondo. Se non lo sapete, le meduse quando sono azzurre o biancastre sono pacifiche, si croggiano lì nel loro, mentre quando sono rosse sono in una modalità cattiva, sostanzialmente ci attaccheranno e quindi dovremo eliminarle. Il carretto sul quale troveremo lo scudo medusa è effettivamente circondato da meduse rosse, quindi dovremo abbatterle per poter raccogliere lo scudo, oppure raccogliere lo scudo e sfuggire alle meduse. Anche perché effettivamente uccidere queste meduse è un peso, soprattutto se conoscete la lore. Dalla descrizione possiamo scoprire le fluttuone a mezz'aria sui suoli consacrati, ma grazie ad una quest che non vi andrò a spiegare, possiamo effettivamente scoprire che le meduse sono degli spiriti rinati sotto questa forma, degli spiriti di bambini. Gente, provate a pensare a quante meduse avete visto nel mondo di Elden Ring. Ognuna di quelle è un bambino morto e risorto con questa forma eterea di incorporea. Quindi in realtà andare ad uccidere le meduse è anche un atto brutale, stiamo ammazzando un bambino che probabilmente non è nemmeno in grado di intendere e di volere. In ogni caso, come tornavo a dirvi, io sto usando la build del barbaro su cui avevo fatto un video, lo troverete poco indietro nel canale, e questo scudo mi sta aiutando davvero tanto perché io uso l'ascia di Godfrey. L'ascia di Godfrey va a potenziarmi i danni ogni volta che uso la sua cenere. Tendenzialmente la uso a due mani, ho questo scudo in schiena, però se io uso la cenere dello scudo, poi me lo metto in schiena e uso la cenere dell'arma, vado a potenziare il mio danno di uno sfracasso. Quindi secondo me, visto il suo peso, questo scudo può essere indossato come buff temporaneo da applicarsi addosso a piacimento, prima di un boss, prima di una fight impegnativa, prima di qualsiasi cosa vogliate e riteniate necessario. Ah, e tra l'altro, la storia che vi ho raccontato sulle bambine medusa è presente sul canale, era un video che aveva fatto Andrea, lo troverete parecchio più indietro sul canale, ma era il segreto delle meduse, quindi non sarà difficile capire quale video è. Però io non voglio mangiarvi troppo tempo, secondo me questo qui è uno scudo utilissimo da avere, tra l'altro ha anche un buon danno fisico, non so bene il perché abbia un danno fisico di uno scaling essendo uno scudo, non funziona come uno scudo perché nel senso non è che puoi pariare, non è che ti proteggerà dei colpi, ma ti dà un buff. Indossarlo come arma secondaria e magari non sfruttarlo se non per il buff, secondo me è una cosa giusta da fare ed è fantastica. E da questo punto vorrei sapere la vostra opinione. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like ed un commento qui sotto con la vostra opinione ed attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri nuovi video. E se avete anche voi il piacere di supportare il canale, qui sotto in descrizione trovate tutti i link utili come gli abbonamenti, super grazie, ed il nostro Instant Gaming dal quale potete acquistare dei giochi a prezzi scontatissimi grazie al nostro riferimento al link. Signori, ci vediamo in un prossimo video e fatemi sapere cosa ne pensate di questo scudo. Grazie a tutti.